Ehi Contessa, sono McFisto. Come sta? Chi? McFisto! Incredibile, eh? Oh mio Dio! Eh, lo so, lo dicono tutti. Senta, no, la chiamo per dirle una cosa un po' delicata. Oh mio Dio! No, 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 stia tranquilla, niente di grave. Ecco, ma che cazzeggiando su Facebook? D'altronde che ci abbiamo da fare in questo periodo, eh? Ecco, no, sono capitato sul suo profilo e... Oh mio Dio! Eh, oh mio Dio! Contessa, scrivi delle cose che non vanno bene, eh? Ma se ve lo dico io che, insomma, proprio uno stinco di santo non sono. Ma... Ma... Ma, 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 ma le pare serio scrivere i musi gialli ci hanno portato il virus. E gli africani con due F che hanno inventato il 5G. E poi mi posta il video della preghiera, là, del programma, da, 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 come si chiama, su... Incredibile! Eh, appunto, è incredibile che una contessa, una donna come lei, scriva i posti stimentiate, scusi, eh? È... Pazzesco! È pazzesco, brava, è pazzesco, perché un conto è pensarle certe cose, un altro è... Ma com'è invecchiato! Prego? Lei, McFisto, ma come caspita è invecchiato! Scusi? Un crollo, i capelli bianchi, la barba bianca! La barba è perché sto a casa e... Incredibile come uno in pochi anni possa ridursi in questo modo! Ma si faccia la tinta, santi Dio che è ancora giovane! Così sembra un vecchio! Eeeh, senti che tosse! Che schifo! Ma si curi, cribbio! Eeeh, senti che tosse! 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 Eeeh, senti che tosse!